buona sera rieccoci bentornati a questo consueto appuntamento del lunedì dopo una brevissima pausa che mi avete concesso si riparte col botto ai ragazzi questa sera tema scottantissimo infatti solo il titolo che abbiamo scelto gli dei della bibbia verità o mistificazione già sono arrivati commenti di ogni tono e di ogni tipo sul titolo di questa trasmissione vedrete sarà molto interessante vi chiedo solo un pochino di apertura mentale e tanta curiosità per andare a grattare sotto una vernice che magari è stata messa sopra a delle verità che sono state nascoste per parlare di questo argomento abbiamo un esperto ovviamente di tutto quello che riguarda le ricerche storiche sulla bibbia e non solo uno storico quindi un ricercatore e un saggista per la prima volta con me questa sera alessandro de angelis benvenuto alessandro grazie per averci ospitato elisa e un buona giornata a tutti i nostri ascoltatori ecco speriamo di non guastargli la digestione della cena perché sappiamo che toccheremo insomma dei temi un tantino scomodi peraltro tu mi hai proposto di entrare subito su un tema che ti sta a cuore perché stai divulgando ultimamente tutto il discorso legato al nuovo testamento alla figura storica di gesù io però ti ho chiesto di fare un piccolo preambolo toccando prima il vecchio testamento perché volevo iniziare a smantellare qualche certezza a partire da da un pochino prima quindi partiamo proprio dalle basi 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 visto che di bibbia si parla secondo la tua esperienza o quanto hai visto fino adesso quando si parla di un testo sacro cos'è che intendiamo per sacro esattamente allora la bibbia è un libro che contiene numerosi libri con racconti storici in parte giusti in parte sbagliati anche perché possono passarono molti eh millenni dalla stesura della bibbia agli eventi di cui narreremo originariamente eh che e questi raccorti storici hanno subito un processo di riemerizzazione che cosa vuol dire che i personaggi di cui parla la bibbia i famosi Elohim o Anunna non Anunaki che non esiste in sumero ma in accadico e vuol dire progene o semenza dei eh dei principi e dicevo ha subito un processo di evemerizzazione dando poteri sovranaturali e deificando questi famosi Elohim o Anunna della Bibbia per poi costruire sopra a questi personaggi che fecero ripartire la civiltà dopo una catastrofe di cui eh parleremo sono li hanno deificati attraverso questa eh questi poteri soprannaturali che in realtà non avevano ma perché noi parliamo di un evento storico che segnerà una linea di demarcazione importante a livello storico antropologico tra eh passaggio dai culti alla nascita delle religioni. I culti prima di questa catastrofe che ci fu tra cui tra poco ne parleremo ulti principali fino a quel momento nel Neolitico era il culto della Dea Madre raffigurata con questo grande bacino o del sole le religioni invece nascono dalla identificazione di personaggi reali umani realmente esistiti. Ecco scusa se ti interrompo giusto per chiarire a chi ci sta seguendo stiamo dicendo che i cosiddetti dei divinità presunti tali non sono a quanto pare degli dei ma sono personaggi realmente esistiti in carne ed ossa che sono stati deificati. Sì perfetto non solo e che daranno origine poi alla nascita di un nuovo potere che arriverà fino ai nostri giorni a partire da una data ben precisa che è quella del 29 giugno 3123 avanti Cristo quando cadde sulla terra una cometa la cometa Barc. Ma facciamo un passo indietro innanzitutto perché questi personaggi di cui parliamo sono i Kurgan, Kur vuol dire altura, Gan da Ganun, Recinto dove addomesticavano i cavalli. Questi Kurgan furono i primi a addomesticare il tavallo, invasero le civiltà del Neolitico della vecchia Europa, della cultura Vincia e sterminarono le cosiddette società neogilaniche ed erano società ugualitarie dove nessuno possedeva più di un altro, dove tutto quello che veniva creato dalla caccia, dal raccolto, dall'ertagianeria delle donne, il cesellaggio dei vasi eccetera veniva poi distribuito in maniera equanime tra i cittadini dello stesso villaggio, tant'è che lo stesso governatore aveva una casa, ovviamente come oggi, che aveva la stessa cubatura dei suoi concittadini, no? Oggi i politici posseggono gli stessi soldi dei loro cittadini, no? Ma quindi queste società agilaniche possiamo definirle come se fossero stati precursori di quelle che fossero stati. Di una civiltà, sì, tant'è che questi kurgan fecero tre ondate di invasione, una nel 5500 avanti Cristo, 4500, la terza più importante nel 3500 avanti Cristo. Evidentemente un gruppo di questi kurgan rimasero a contatto abbastanza tempo con la cultura Vincià, perché diciamo questo? Perché lì appresero le prime forme di pittogrammi, citiamo le tavolette di Tartaria, tant'è che poi quei simboli che troviamo in questa cultura me li sono ritrovati nelle tavolette prelamitiche, che cos'era l'Elam e dove si trova adesso l'Iran. L'Iran, l'Iran invece a fianco è dove c'è la famosa terra di Sumer, da dove nacque la cosiddetta prima inciviltà. Quei pittogrammi, ho trovato dei pittogrammi molto particolari che non erano riproducibili se non da parte di chi li aveva conosciuti evidentemente, furono poi organizzati come prima forma di scrittura da parte di questi personaggi di kurgan. Non solo, loro appresero anche l'arte della metallurgia, da queste società neogilani, che le prime arti, le prime forme di costruzione delle prime case che venivano fatte con mattoni di terracotta e argilla che venivano poi cotti per queste abilitazioni, ma lì abbiamo addirittura case a due piani con condutture idriche, discarico, fognari eccetera. avanti. Quindi non stiamo parlando nel neolitico di civiltà così retrograde come hanno voluto poi farci credere. Tant'è che poi da queste società del neolitico, quando furono in base dai kurgan, molte di queste fuggirono in Anatolia, a Cipro, secondo le mie scoperte arrivarono anche in Sardegna e abbiamo la famosa civiltà minoica, palazzo di Knosso, quindi è nata, fiorì una grandissima civiltà, ma non interessano questi kurgan perché loro vivevano su una grande catena montuosa, la catena dei Monti Zagros, lunga fino a 1200 chilometri che arrivava fino al Mar Nero. E in questa zona dell'Elam, quindi nell'Iran, c'era l'antica città di Susa. Questa città su cui regnava un re Enlil, un re che ritroviamo negli antichi miti a Cadigo Sumeri. Era mica il fratello di Enlil, questo. Enlil, non erano fratelli. Lo potete vedere qui, Enlil, un altro Ekimu e un altro Enlil, figli di Anlil. Questi sono i kurgan, questi qua di cui ci stai parlando? Questi erano kurgan. Quindi, perdonami, facciamo un altro piccolissimo inciso. 3000 e passa anni prima di Cristo. Contemporaneamente esistevano... Parliamo, grosso modo, del 3140 avanti Cristo. Coesistevano kurgan e società gilaniche? No, loro invasero le società neogilaniche, le distrussero. Usavano questi famosi anunna alieni, usavano armi laser potentissime come un'ascia di pietra, una mazza di pietra, frecce e lance, tant'è che nel libro Lucifero, il resumero tradito dal Signore, riporto tutti i testi delle lamentazioni dove forgiarono proprio le prime armi di rame, e quindi abbiamo il passaggio dal Neolitico all'età del rame, proprio grazie a questi personaggi, personaggi bravissimi, di cui noi siamo i discendenti, purtroppo, gara Elisa, che oltre che a spaccare la capoccia a donne e bambini fracassandogli il cranio, eccetera, eccetera, poi invasero la terra di Sumer, schiavizzarono, ecco perché poi queste scoperte danno fastidio al potere, perché io vi sfido a trovare testi universitari di antropologia dove parlano di queste società egualitarie e neogilaniche, non ne parla nessuno, perché se il popolo venisse a sapere che prima dell'avvento di questi personaggi esistevano società egualitarie che vivevano senza guerra, senza religione e senza potere, le persone inizierebbero a capire che potrebbero esistere delle società alternative a quelle che abbiamo conosciuto fino ai nostri tempi e che si origineranno proprio da questi personaggi. Non c'entra niente con Atlantide, questa cosa qua, o con Lemuria, queste civiltà. Fa riferimento al mito, all'espressione del vulcano Santorini, di terra, e quindi allo sprofondamento di quell'isola. Chiedevo solo, per chi comincia a avere delle domande, dice, ma esistono le prove dell'esistenza di queste società neogilaniche che sarebbero un modello societario? Ne ha parlato Riane Ester, nel Calice e la Spada, Maria Gimbutas, in molti suoi libri, abbiamo molte documentazioni, ritrovamenti archeologici. Comunque sia poi, perché è importante? Perché loro crearono le prime città-stato nella terra di Sumer, di Sumer, da Ridu, Shurupak, insomma, tantissime di queste piccole città-stato, e che cosa fecero? Ne parlano sempre poi i testi sumeri delle alimentazioni, e presero quelli dalla testa grigia, della testa nera, cioè la popolazione autoctona della terra di Sumer, e a forza di mazzate li costrinsero a bonificare il territorio, a scamare canali lungo il Tigri e le Eufrate, tant'è che ci ritroviamo poi con il mito del piccone tradotto da Noah Kramer, dove si parla del primo sciopero, quando ti dice che il lavoro degli gigi, di quelli dalla testa nera, era diventato insopportabile, e con i picconi andarono sotto il palazzo di Ellil, si trovava a Susa nell'Elan, perché proprio abbiamo la testimonianza del primo sciopero, perché il loro lavoro era diventato insopportabile. Quindi schiavizzati. Schiavizzati, sì. Partonde questi alieni erano pigri, alzare con la levitazione, costruire, non gli andava, li facevano lavorare col piccone, così, no? Tutti, da lì, da questi personaggi, poi nasce tutta la bufala della paleoastronautica, portata avanti dalla massoneria per coprire questi personaggi. Infatti, Anunna, è il testo che ritroviamo in Sumero, Anunna, chi non esiste, in quanto il chi è riferito, lo ritroviamo solo in Accadigo, e il chi è riferito come terra, terra, ma non alla terra come pianeta, ma come suolo, come polvere. Quindi, dicevo, compare solo il termine Anunna. Ma andiamo invece alla storia, per poi cercare di capire quello che è successo e perché questi personaggi subirono questo processo di evemerizzazione, perché furono divinizzati e... Che è quello che ci interessa. Cioè, certo che diventare... Aspetta, ripeti un po' come si chiama questo processo qua di divinizzazione? Come l'hai chiamato? Evemerismo. Evemero era un filosofo, fu il primo a parlarne, diceva, ma guardate che questi erano personaggi in carne e ossa, umani, che hanno subito un processo di divinizzazione, quindi poi di deificazione. Ecco. Quindi, molto tempo fa. Arriviamo al succo invece della vicenda, dove abbiamo poi messo in comparazione la Traasis, il Gilgamesh, tantissimi testi, Sumero, Accadici, Babilonesi, eccetera, eccetera, per ricostruire quello che è successo. Abbiamo pubblicato ben quattro libri su questo, Codex Yahweh, dove poi abbiamo dimostrato che tutti i personaggi da Adamo, Caino, la discendessa, eccetera, eccetera, Sam, erano, facevano parte di questi personaggi. 666 dove sta? Eccolo. Poi abbiamo scritto La famiglia di Yahweh, dove svediamo il famoso Dio alieno della Bibbia, ragazzi, vi svediamo chi era Yahweh, altro personaggio in carne e ossa. Personaggetto, eh? Il terzo libro, 666, La caduta degli angeli ribelli, Il marchio della bestia, e che finisce poi con Lucifero, il resumero tradito dal Signore. Occhio perché, ragazzi, non sono libri che si occupano della religione, ma di storia. Qui potete vedere, ad esempio, tutti i simboli, i gerografici, le lingue varie. con alcuni pittogrammi che poi ritroviamo proprio nel prelamitico, come da questi simboli poi arriviamo fino all'alfabeto etrusco, perché alcuni di questi personaggi poi sono sbarcati fino in Italia, proprio qui dove vivo io, a Tivoli, vicino Roma. Ah dai! Non ci facciamo mancare niente, eh, qua in Italia. No, riportiamo tutte le prove archeologiche, archeologiche, tutto. Guarda, dalla scrittura vince come si elaborarono poi tutti, tutte le forme di scrittura fino a noi. Quindi, ragazzi, vi trovate davanti a testi storici, non di religione. Ok? E purtroppo... È una bella differenza. È stato un lavoro di comparazione tra i vari testi che non ha mai fatto nessuno o evidentemente era molto scomodo dei cari docenti universitari si sono fatti sfuggire che quei simboli che venivano dalla scrittura vinciare li troviamo nell'Elan, nel protosumerico e da lì fino ai geroglifici egizi perché poi andarono in Egitto. Arriviamo insomma al succo della comparazione. Pseudo divinità, eh? Quelle poi le dobbiamo smantellare. Questi alieni che mi sfugge la stella dal pianeta da cui venivano, ma insomma... Beh, ce ne sono diversi i cari docenti della Bibbia da dove venivano. Abbiamo il capostipide, anzi, ne abbiamo altri perché Anna era figlio secondo i testi babilonesi di Lacmo e Lacamo, poi erano figli di Ansar e Chesar, figli di di Tiamat e va bene. Questo Anna, che vuol dire cielo, ebbe tra i suoi figli, sposò Damu che era una concubina e Danto che era la sorella. Ci siamo? Fece tra i suoi figli aveva Enki, un altro personaggio poco conosciuto che si chiama Kingo e la radice Cain Kingo QN vuol dire popolo, razza, corona, quinn. Ecco perché poi i quinn usavano tutta questa simbologia dallo zoroastrismo eccetera, che cosa fece il caro Anna? Fece una legge molto particolare e disse che anche era il primo genico, la regalità non doveva andare al primo genito ma al primo figlio che gli sarebbe nato dall'unione di lui con sua sorella e la sorella era Antula di Nacque Ellin scusami se ho capito bene diventava re il figlio di un incesto? il detto non c'è cosa più bella che trombasse la sorella viene dai Gurgan eccala non c'è cosa più bella che trombasse la Gurghina viene dagli erodiani lì compreso Gesù che era l'ultimo figlio di Erode ma primo modo di di parlare non voglio essere non voglio essere volgare ma non resisto ma perché questo Elisa? perché praticamente l'unione in questa maniera ereditava tutto quello tutto il potere e le ricchezze del genitore che aveva sposato la sorella rimaneva poi sempre in famiglia ereditato dal primo genito e quindi questa ricchezza tendeva sempre ad aumentare e con la ricchezza aumentava il potere ok? davanti a questa situazione Enki che cosa fece? non gli andava bene perché era il primo genito si fecero del chicchero e quindi decise di ammazzare il padre Ann trovate tutto nei libri che vi ho fatto vedere la ricostruzione storica di questo a questo punto Tiamat la ritroviamo nei miti babilonesi che cosa fece? prese le tavole dei destini che so se le tavole dei destini sono quelle che poi arriveranno fino a Mosè dai dieci comandamenti secondo loro queste tavole dei destini in pietra infatti le ritroviamo se voi scrivete Marduk Wikipedia Marduk era Adamo primo reddere a lista reale sumerica alias Alulim e le troverete appesi al petto di Marduk queste tavole dei destini avevano tre precise peculiarità uno quello di dare la regalità quindi al posto della classica corona loro si tramandavano queste tavole dei destini due avevano il potere di far vincere le guerre tre il potere di divinizzare passato presente e futuro ok qui torniamo poi anche alla quindi davano anche la conoscenza giusto? nel momento in cui tu conosci passato presente e futuro hai la conoscenza la famosa conoscenza che poi Lilith darà demonizzata come serpente darà ad Eva che era la sorella di Adamo e per questa punita dal signore della Bibbia che era Elil non solo perché e Elil aveva tre figli Elil aspetta ricapitoliamo la saga Elil era il fratello di Enki che ha ammazzato il padre Han quindi lui era ancora vivo nel frattempo perfetto perfetto dopodiché ci fu una battaglia tra Adamo ed Elil perché torniamo all'origine poi raccontiamo tutta la storia arriviamo a svelare anche il peccato originale ah era molto originale questo peccato no? che bella sorpresa però guarda ci vorranno tante puntate per svelare tutte le nostre scoperte purtroppo le pazzane che ci hanno raccontato e sveleremo tutta la Bibbia una caduta verticale che neanche si aspettano quindi Enki uccise il padre Han e Tiamat dicevo che cosa fece prese le tavole dei destini e le diede a Kingu Kingu probabilmente Tiamat era Nam tra l'altro era un fratello di Enki e di Elil Elil era molto più giovane e formò poi insieme a Nam e a Tiamat un esercito a questo punto Enki ebbe paura e quindi convocò un'assemblea degli dei riportiamo quello che ci riportano i testi e tutti avevano paura nessuno si fece avanti per contrastare l'esercito di Nam e di Kingu l'unico che si fece avanti fu Marduk il pianeta di Marduk era Giove adesso noi abbiamo sempre fatto comparirà nel tardo cristianesimo il personaggio di Lucifero Luxper in Isaia lo ritroviamo come la radiosa stella del mattino eh sì quello che dovete sapere voi come siamo poi arrivati a vi riportiamo le prove di che Adamo era Lucifero il motivo per cui fu processato dove tutta la storia del processo che gli fu fatta addirittura dove fu imprigionato e come fu liberato ragazzi è qualcosa di pazzesco abbiamo svelato chi era il personaggio Lucifero mentre il signore altri non era che il caro zio Elil e dicevo il pianeta di Marduk era Giove ora la mattina è lì che si sono impicciati tutti quanti perché Lucifero la radiosa stella del mattino pensano tutti a Venere che si vede al mattino come pianeta ed era Venere il pianeta di Inanna Inanna con Uto che era dei figari come il sole erano figli di Nanna un figlio di Elil Ninorta Nanna Ischipur Euto ipote di Elil sono i famosi quattro arcangeli li abbiamo identificati tutti e quattro da Nanna per esempio era re dove a Ur una cittastato una cittastà e li troviamo tra l'altro nel portone per la prima volta ce lo dico nei testi della namentazione la figura del leone che arriverà fino al simbolo di Giuda il leone di Giuda Ur El Signore di El vuol dire Signore di Ur Uriel vi ho svelato uno degli arcangeli poi vedrete tra questi altri che era l'arcangelo Michele l'arcangelo Raffaele e ve li abbiamo svelati tutti quanti pensate un po' che bello per la prima volta personaggi fin qui relegati nella mitologia che iniziano ad assumere connotati in carne ed ossa dicevo Marduk fu l'unico che prese parola nell'assemblea e disse bene mi opporrò io all'esercito di Tiamat e di Kingo ma se vincerò voglio la regalità accettarolo e Marduk alias Sadamo o Alulim lo trovate nella primo re della lista reale del protodinastico della lista reale sumera del protodinastico uno a primo lu uomo lim venuto a venire primo uomo venuto era la dama della bibbia vedete la comparazione poi con il swap che ha alluato al saggio lo sdoppiamento si fece avanti e disse bene voglio io la regalità nel caso vincerò la guerra vinse la guerra dopodiché uccise Kingo mischiò il suo sangue con l'argilla e lì il mito babilonese ci dice che nacque l'adapa il primo uomo ah quindi la nostra storia in teoria partirebbe da lì omettendo tutta questo processo certo di evemerizzazione questa è tutta la ricostruzione poi attraverso la comparazione tra i vati miti che abbiamo ricostruito quindi quelli si sono spacciati per i nostri dei creatori questi qua che hai menzionato adesso certo poi vedremo perché a questo punto che cosa era successo che Adamo Marduk Moadapa risultò vincitore la città su cui regnava era Eridu quindi su tutte queste città statute nella terra di Sumer vivevano contemporaneamente questi vari personaggi compreso Noè che era il decimo re della lista reale sumerica Ziusudra o Tnapsim per la Rasis a questo punto Marduk o Adamo uscì vincitore da questa battaglia però il suo esercito che cosa succede? Se tu combatti con un altro esercito esci vincitore ma il tuo esercito comunque avrà subito notevoli perdite quindi uscirà ridimensionato beh a questo punto che Eridu fortestamente attaccò Adamo o Marduk che cosa successe nella Bibbia aspetta aiutami a ricordarmi la storia di Caino e Abele riconosci? Avete mai sentito parlare? Caino Cain da chi fu ucciso Caino? Eh Abele scusa da Caino così si dice dal fratello sì dal fratello dunque ragioniamo un attimo questa storiella noi abbiamo Abele che va Elil e vince la guerra a questo punto con Adamo e Abele va dallo zio Elil lui era Adamo e Abele sono figli di Marduk o Adamo giusto? Dunque oggi noi cosa paghiamo ai nostri padroni discendenti Kurgan le tasse i tributi ai tempi dei re dei principi giusto? Sempre tasse erano ma sempre le tasse in quel periodo che sotto cosa si potevano cibo offerte sacrifici un agricoltore il cibo che veniva dall'agricoltura per un allevatore quello che veniva dalla e quando Abele ci dicono che fu ucciso da Caino dopodiché Caino andò anche lui dal signore giusto? Quando fu al cospetto del signore il caro Elil che cosa disse il signore a Caino Caino dove è tuo fratello che è tanto tempo che non lo vedo leggete la Bibbia rinfrescatevi la memoria confermo che c'è scritto quello e Caino gli risponde e che cazzo ne so mica faccio il badante di mio fratello io c'è scritto proprio così ma non c'è proprio virgolettato sì sì ma il succo del ah non lo sai è strano perché il corpo di Abele si trova in quel posto e c'è il terreno sporco di sangue del sangue di tuo fratello e come poteva il signore sapere dove era il corpo del fratello di Abele tant'è che indica anche il posto del terreno sporco di sangue di Abele perché fu ucciso proprio da Ellil dopodiché cercò di uccidere anche Caino il famoso marchio di Caino una bella mazzata sulla fronte e va bene così dopodiché il caro Caino ma se questi erano tutti i personaggi sumeri anche Caino lo dobbiamo trovare nei testi sumeri e infatti ho trovato anche Caino nei testi sumeri nel British Museum di Londra dove si parla di Caino che fuggì costruì una città una città difesa da mure perimetrali con due alte torri al centro perché costruì questa città e lui era molto bravo nell'arte della metallurgia nel costruire armi e lui aveva paura di questo perché costruì questa città rinforzata da mura perimetrali perché aveva paura che lo zio potesse ucciderlo e il figlio di Caino come si chiamava te lo ricordi? no no la città loro davano poi in genere il nome della città che costruivano ai loro figli questa città si chiamava Enoch arriviamo a rapimento di Enoch perché a quel punto Elil attacca Caino e che cosa succede? rapisce il figlio Enoch e lo porta nella terra di Sumer il famoso nella scusa nella città di Susa c'erano i monti Zagros quindi questi vivevano con cappotti pieni di piume e se voi leggete il libro di Enoch nel libro 666 praticamente dove poi tutta l'apocalisse viene svelata ne parleremo dopo testo amarico abbiamo usato il linguagess nell'antica lingua etiope voi vedrete che il rapimento di Enoch altro non era che il viaggio in cui Enoch un bambino molto piccolo descrisse i monti che vedeva questi che erano vestiti con queste piume altri non erano che questi kurgan e lo prese lo fecero poi prigioniero ti racconto quando entra nel palazzo di Ellil il soffitto pieno di lapislazzuli il pavimento eccetera eccetera tutta la storiella e beh qui ce li trasformano con un bel giochetto di prestigio questi affabulatori in alieni per coprire tutta la nostra la nostra storia che è scomoda al potere e poi dire che alieni combattono con mazze di pietra ascia di pietra bonificano i territori il piccone me ne vanno spiega è un po' poco evoluti per essere altri pianeti per poi schiavizzare l'umanità in questa maniera vabbè ma oggi le nuove teorie del caro Malachia lì abbiamo addirittura la battaglia tra i Deva gli Asura non sanno neanche che Asura era Asur secondo genito di Sam si mettono a giocare con la storia essendo degli ignoranti e va bene così ci parlano di rapimenti abduction delle anime una marea di ma quello può anche essere ma non c'entra con la storia cioè tra l'altro mi sto chiedendo sono stati ritrovati centinaia di corpi vuoti a cui hanno rubato le anime perché se io ti succhio l'anima poi ovviamente hai un involucro vuoto un corpo che si muove come i zombie senza anima senza niente no quello no non è così allora non esiste non è quello che succede con queste cazzate questi personaggi si occupassero di adduction che sono un altro capitolo mi chiedo il fatto di far credere che fossero alieni come potevano pensare che fosse più credibile piuttosto del nascondere che sono stati divinizzati cioè perché anche credere in un dio che nessuno ha mai visto non è tanto semplice come credere in un alieno allora tanto vale perché questa scelta di virare sugli alieni beh sai le chiese si stanno svuotando quindi risettare da questi personaggi mitologici in alieni e dargli un tocco di pseudoscientificità tanto le persone sono ignoranti nel sumero egittologia eccetera eccetera perché loro non si confrontano mai con egittologi sumerologi eccetera eccetera ma vanno sempre al cospetto di persone ignoranti gli danno un tocco di pseudoscientificità a queste cose e così le persone sai poi un inganno a forza di ripeterlo diventa verità e le persone che cosa fanno invece di attaccare chi ha creato l'inganno attaccano chi svela gli inganni è un classico questo perché cadono da una religione a un'altra religione new age più caruccia altrimenti dovrebbero dire cazzo qui non è che sto a coglione una volta ma a coglione due volte sono cascato dalla padella alla brace ma i testi delle lamentazioni che non trovate in Italia abbiamo dovuto ritradurli dai testi sumeri li trovate solo in inglese quindi abbiamo dovuto fare tutto il lavoro di ritraduzione e parlano chiaro e ci parlano di un evento molto particolare lì arriviamo alla famosa data lo spaccato e il processo di evemerizzazione di questi personaggi ecco perché e tu pensa io quando facevo l'università con Marzoleni mi portai avanti la religione dei popoli primitivi la tesi che la nascita delle religioni perché in quel periodo stavo dando anche l'esame di geografia quindi legata alla caduta di asteroidi vulcanesimo terremoti eccetera eccetera e teorizzai che la nascita delle religioni fu dovuta a grandi catastrofi naturali però non si avevano ancora tutti gli strumenti per poter poi focalizzare bene e vedere quale fu l'evento che portò a tutto questo ebbene ci sono stati un gruppo di scienziati che invece hanno scoperto qualcosa di molto particolare la caduta di una cometa la cometa Bark come siamo arrivati a quella data poi lo vedrete del 29 giugno 3123 a.C. lo vedrete nei libri attraverso dei reperti archeologici dove attraverso le costellazioni eccetera eccetera si è riusciti a datare l'evento beh questa cometa la caduta di questa cometa ce ne parlano i testi dell'anelmentazione non solo ce ne parla anche l'apocalisse rivelazione di Giovanni se voi leggete i sette squilli di tromba dell'angelo quei squilli parlano dell'evento causato dalla cometa Bark la cui coda passò nella terra di Sumer nella valle di Lindo dopodiché continuò la traiettoria e cadde nell'oceano indiano sollevò onde di tsunami è stato calcolato innanzitutto è stato ritrovato il cratere sul fondale oceanico della circonferenza di 29 km formarono degli Chevron in Australia in Madagascar altissimi grazie al sullevamento di questo fondale oceanico infatti sono state ritrovate conchiglie eccetera eccetera ma anche un'altra cometa poi passò anche ancora una volta cadde lì sempre in quella terra di Sumer ma dovrebbe essere questa al 90% la cometa che si schiantò in quella zona perché mettendo in comparazione i miti di oltre 80 paesi della caduta del diluvio universale questi miti ci raccontano il fatto di una gigantesca figura dotata di due grandi corna che si avvicinò alla terra dopo di che ci fu la devastazione e una delle caratteristiche di queste comete è che quando passa intorno al sole e gira la sua coda si biforca in due parti o in due parti la cometa dotata di due forma questo simbolo vi dice qualcosa? simbolo tanto caro i massoni? le corna o la bu di vittoria? e i testi dell'alimentazione ci raccontano in una maniera incredibile la devastazione che ci fu da parte di questa cometa pietre incandescenti che cadevano un vento fortissimo esplodevano al loro passaggio e questo vento fortissimo scaraventava addosso ai muri le persone il 60-70% riportiamo un'utilità di scientifici delle persone morivano per implosione per rottura degli organi interni tipo bomba atomica e cadevano queste addirittura i corpi che venivano liquefatti dalle altissime temperature e se prendiamo i testi del Mahabharata i testi velici ci raccontano di enormi colonne di fumo che si aprivano in onde circolari erano queste la devastazione dovuta al passaggio di queste grandi pietre che esplodevano pensate a Tungusta dove è stata rasa un'intera foresta ebbene ci parlano della devastazione della foresta che si trovava nell'Elam proprio oppure a Muenciodaro e a Rappa sono stati ritrovati sul tetto delle abitazioni strisce le strisciate di vetrificazione del passaggio dei frammenti di questa cometa e con corpi tutti gli scheletri e i corpi tutti addensati al lato dei muri le esplosioni del vento beh lì ovviamente i nostri massoni ci vengono a raccontare armi laser dovute alle battaglie tra questi alieni ci citano Davenport e lo scrittore che parla di questo strano che poi non sappiano che ad altissime temperature e pressioni venga vetrificato tutto ma li abbiamo anche nel deserto poi questi processi di vetrificazione quando cadono questi asteroidi e va bene così ma ci parlano anche del fatto che si oscurò completamente il cielo gli uccelli non riuscivano più a volare per il vento fortissimo che arrivava trasportato da questa enorme onda di tsunami figli che quando leggerete questo libro Lucifero ragazzi vi si apre una cronostoria su un evento accaduto 5.000 anni fa che è qualcosa di pazzesco figli che chiedevano aiuto alle mamme e le mamme impossibilitate da aiutarli e tutto fu devastato l'acqua era imbevibile chi è che ha testimoniato cioè da dove da dove arrivano le le dichiarazioni di quello che è successo nel tre guarda abbiamo lamento di Ur lamento di Erido sono i testi delle aumentazioni strano che questi numerologi non abbiano capito che si trattava della caduta di una cometa perché ne parlano in una maniera chiarissima che siano collusi con il potere non ne possano parlare è molto strano eppure gli altri ma cosa cambia cioè domanda che cosa gli cambia a questi a dire che è stato il diluvio anziché una cometa perché è così importante nasconderlo beh perché da questi personaggi si originò si originò poi questa civiltà anzi anticiviltà schiavista che distrusse le società equalitarie della vecchia Europa e che creò un potere a suon di botte con la forza loro praticarono l'usura l'organizzazione militare quindi cento uomini immagine dei kurgan tutti altri tant'è che nel testo di Enoch Amarico si parla non di giganti ragazzi ma di uomini altissimi attenzione ed erano alti un metro e ottante erano molto alti per quei tempi questi questi kurgan beh immaginati questi dopo il passaggio della cometa Barker queste onde di tsunami alte oltre 200 metri che arrivarono nel lento terra per centinaia di chilometri devastarono tutto quanto un mondo che era quasi sulla civiltà dell'estinzione beh uno dei figli di Noè alias Ziusudra che si trovava regnava a Shurupa che arrivò fino in Egitto immagina di questo con la sua famiglia arrivava lì organizzato con asce e mazze di pietra prendevano subito il pondere davanti a non dobbiamo immaginare una terra come oggi piena di tutti questi abitanti davanti a poveri e inermi pastori che schiavizzarono subito immediatamente presero il potere un po' ovunque dividendo poi questa terra in vari in vari stati però arriviamo alla battaglia che noi almeno una cosa cerchiamo di arrivare al succo oggi sì alla battaglia eh tra Marduk e Elil no? eravamo rimasti a questi due le tavole dei testini poi ce le ritroviamo nelle mani di Elil ok? sì era lo zio di il caro di Marduk detto Adam il caro Adamo Adam Ada Palulim Marduk la prima moglie di Adamo chi era? non era Eva era Lilith Lilith Nisabba era anche conosciuta come la dea della scrittura ok? e fu la prima a probabilmente a costruire da quei pittogrammi le prime forme di scrittura tant'è che Tito Flavio Giuseppe ci racconta che Adamo e suo figlio Sette scrissero della distruzione dell'universo che ovviamente era la terra che ci fu a causa dei due eventi uno dovuto all'incendio perché il passaggio della comedia incendiò tutto quanto e uno dovuto all'acqua e le scrissero su due colonne una di roccia e una di mattoni per paura che potesse eh perdersi poi con il passare del tempo questa testimonianza Sette era un altro dei figli di Adamo ma Sette te lo ricordi in Egitto tu? Sì Porca miseria perché Sette Cam e Yafet arriviamo fino a Sette ma solo Sette e Cam e Yafet spariti non ci arrivano in Egitto loro Sì perché poi Sette era figlio di Cam uno dei figli di Noezio Sudra e Noezio Sudra abbiamo ricostruito tutta la genealogia vedrete di chi era figlio e quindi abbiamo Sette figli di Adamo da qui la genealogia continua fino a Sette figlio di Cam che altri non era che Cush ne abbiamo svelati tutti l'identità di questi dei ma arriviamo ci perdiamo con queste regressioni certo arriviamo al peccato originale ecco giusto giusto persa pure io malmente tante cose che trascinano la mia moglie di Adamo era lì dammi solo un secondo perché mi immagino che chi sta ascoltando in questo momento sia un attimo frastornato poi non pigliate gli argomenti come un attacco personale al vostro credo lo so che qua si prende ammazzate tutto però stiamo offrendo una visione altra che si basa su fonti storiche di quello che ci hanno raccontato in altri modi quindi tutto quello che Alessandro sta dicendo si rifà a nomi a nomi a personaggi e a eventi realmente accaduti ma li sta raccontando da un altro punto di vista non solo anche a progruppi perché questi personaggi appartengono tutti alla progruppo R1B e noi apparteniamo alla progruppo R1B Tutankamon lo conosci Akenaton il padre Amenofi III figlio del patriarca biblico Giuseppe è stato fatto il DNA appartengono alla progruppo R1B cazzo com'è va bene ma ne parleremo poi più avanti di questo abbiamo un'altra puntata in canna dove si parla abbiamo troppe di puntate se dobbiamo svelare tutto dicevo che Adamo era sposato con Lilith Lilith era figlia di Nisabba chiamata anche Dea della scrittura e di Aya Aya era il capo delle guardie del palazzo di Ellil dove Ellil custodiva le famose tavole dei destini Lilith accadico Lilitu Lil vuol dire vento signora del vento En Lil signore del vento Nin Lil la dea Nil Sumer altri non era che Lilith Nin signora Lil vento ed è come tutte que quelle eh quegli eventi catastrofici che si sono sviluppati dalla caduta della cometa Burke furono poi sincretizzati su questi personaggi perché l'esplosione il vento fortissimo che eh si aveva poi fu sincretizzato su questi personaggi signore del vento signora del vento eh Ninurta che con la sua mazza devasta l'intera foresta dell'Elam nella battaglia contro Marduk eccetera eccetera quindi gli effetti catastrofici che accadero durante quella cometa furono poi sincretizzati su questi personaggi che subirono poi questo processo di divinizazione e deificazione e dicevo che cosa successe doveva Adamo Marduk rubare le tavole di Messini ad Ellil e prese quindi si mise d'accordo con la sua prima moglie Lilith e Ellil era molto invaghito di Lilith evidentemente era molto bella la Lilith tant'è che si andò a fare il bagno nel canneto e la madre l'avvisò non andare nel canneto che zio Ellil è un paraculo ma lei non seppe resistere si mise subito un bel costume perizomato leopardato fonti storiche non ce n'è però su questa cosa il costumino perizomato antecedente all'epoca non sta scritta e come no no lo so come no chiamò chiamò zio Ellil col cellulare gli disse zio Ellil mi sto facendo il bagno al canneto zio Ellil ha rapato come un canimano andò subito al canneto e beh Elisa me l'hai detto su Alessandro possiamo divagare come vuoi me l'hai lasciata assolutamente almeno rimane un po' più visibile la rimiamo questa trasmissione ai nostri invece di alieni li trasformiamo per quelli che sono e lì entra in gioco un altro personaggio Anzu che viene demonizzato come un uccello ma anche la Lilith come civetta come uccello nel verrà demonizzata poi perché era d'accordo con questo complotto per rubare le tavole ad Ellil quindi Anzu rubò le tavole dei testini ad Ellil approfittando del fatto che Ellil si era recato da Lilith da Lilith scusami o Nemlil trattate che ebbe anche poi dei figli con lui era una zoccolandia che non puoi capire quel periodo zoccolandia bellissimo non è che è cambiata tanto la solfa ovviamente il capo delle guardie del palazzo di Ellil era Aia il padre di Lilith quindi Anzu l'avvisò guarda che c'è zio Ellil che sta con Ellil passa il bagnetto al canneto questo è partito e Anzu gli frega le tavole dei testini peggio della peggior telenovela brasile dopodiché le tavole dei testini la cara Lilith verrà demonizzata come serpente ce la ritroviamo certo abbiamo detto che le tavole dei testini davano aspetta ricordami divinizavano passato presente il futuro e quindi che cosa davano Elisa la cono la conoscenza giusto erano in grado di divizzare passato presente e futuro oltre che dare la regalità e quindi Anzu diede queste tavole dei testini al nella Bibbia al serpente la conoscenza non c'è nessuna mela nella Bibbia ma sappiamo che il serpente Dio gli disse non devi mangiare da quell'albero no e lei passò la conoscenza a chi ad Eva dei tavoli dei testini ed Eva le diede ad Adamo ecco perché subirono un processo di demonizzazione questi personaggi il peccato originale di Adamo di essersi rivoltato contro il caro signore e adesso vedete come cominciamo ad inquadrare un po' tutta la storia cambia la solfa e questo portò poi ancora una volta la battaglia tra Adamo e suo zio Elil ma Adamo fu costretto a fuggire e quando fuggì andò verso ovest e lì la Bibbia ci dice che quando videro le donne che le figlie degli uomini erano belle si accopiarono con loro cioè quale fu questo peccato che poi imputarono ad Adamo fu quello di essersi a Lucifero e gli angeli ribelli accoppiati con delle donne che non appartenevano alla loro stessa razza non solo ma passarono a loro la conoscenza della scrittura di come forgiare le armi con la metallurgia e quindi ragazzi quello fu il vero capo di imputazione che portò poi a questa guerra famosa tra il Signore contro Lucifero e gli angeli ribelli ma ho sbagliato tutto erano tutti alieni no in realtà è molto più affascinante così la sopopera è comunque sconvolgente arrivare a svelare il peccato originale esatto esatto una demonizzazione continua tra l'altro si parla spesso di demonizzazione ma non si parla mai di divinizzazione e adesso che facciamo andiamo avanti o mi fermo ma allora vorrei solo una po' visto che abbiamo cinque minuti che siamo già quasi arriviamo al dio della Bibbia ecca la non ci facciamo mancare niente sappiamo che Noè alias Ziusutra decimo dei della lista reale sumerica fu trasportato con la sua arca verso il monte Ararat loro abbandonarono il nomadismo perché abbiamo detto che questi kurgan non usavano i cavalli diventarono stanziali costruirono queste città-stato quindi non usavano più i cavalli per il trasporto delle loro attività commerciali ma queste grosse chiatte di imbarcazioni che attraverso i fiumi poi dove avevano costruito queste varie città-stato per scambiare quello che poi loro tra loro producevano questa arca fu trasportata fino sul monte Ararat e ci dice la Bibbia e altri dessi che Noè si salvò e Noè aveva tre figli Kam, Seth e Japheth ok? da Japheth si originano i popoli europei da Japheth abbiamo Gomer Gomer padre di Askener sapete dove sbarcò Askener che ci stanno rompendo tanto i coglioni con gli ebrei askenaziti no? ah sono ebrei askenaziti ce lo dice Dito Flavio Giuseppe sbarcò Reggio Calabria da lì nacque il popolo dei reggini da te che se andate lì trovate la via proprio via Askener e quindi togliamo di mezzo sta storia degli ebrei askenaziti perché gli ebrei erano un altro popolo lì salta tutto ragazzi sta prendendo un corpo a tutti quanti compresi i cari massoni ma ne parleremo nella prossima spuntata vi sveleremo chi erano gli ebrei perché loro dicono di essere i discendenti di Mosè manco per cavolo un altro figlio era Sem da Sem abbiamo Arpax a De Sela Eber Eber sposerà Azzura che era la figlia di Nimrod da cui nasce Peleg si formarono la civiltà protellenica da Peleg abbiamo Caina che sbarcò qui in Italia tant'è che qui sono state ritrovate le asce che sono le asce Gurgan che sono nel museo Pegorini a Roma abbiamo riportiamo nei nostri libri tante documentazioni archeologiche progruppi etimologiche i figli d'Androcchi hanno lasciato tracce dappertutto e quindi vedete che Askenes da Reggio Carabria Cain sbarca qui nel Lazio qui abbiamo le muraci tropiche anche noi siamo discendenti di questi grandi costruttori ragazzi ok non so se è una bella cosa volente o non so se è una buona notizia ma forse sì poi alla fine capirete perché nella prossima puntata qui da da padroni siamo diventati i garzoni dei nostri eh servi dei nostri ex garzoni che erano quelli dell'aprogruppo J a cui appartiene il caro Rothschild che erano allevatori di capri e agricoltori che seguivano i grandi costruttori un altro dei figli era Cam Cam Am Amon il dio inconoscibile egizio padre di Misraim MSR che vuol dire Egitto e di Cush questi sono due dei sette figli di Cam tutti dei figati Misraim verrà deificato con Osiride Cush verrà deificato con sette e guardate da qui torniamo al sette figli di Adamo ragazzi non sono nomi a caso che ricorrono e noi sappiamo che Osiride sposò Iside e sette sposò Nefti ok quindi sono quattro fratelli Osiride sposò Iside e sette sposò Nefti sette prese la parte bassa dell'Egitto Osiride la parte alta lo conosciamo anche come il famoso faraone Narmer Mazza Kurgan in mano mentre Cam lo riconosciamo come il famoso re scorpione anche lui Mazza Kurgan in mano guarda un po' questi alieni tutti con queste masse di pietra e va bene così hanno costruito poi questa tecnologia aliena qui sulla terra tant'è che i dischi volanti poi dai primi dischi volanti del 47 a forma di disco adesso sono diventati triangolari si sono evoluti qui loro no? non erano quelli di che hanno voluto nascondere va bene che cosa successe? che il caro Misraim ovvero Osiride o faraone Narmer era ubriaco e decise di trombarsi la moglie di Cush O7 ovvero Nefti già che c'eravamo d'altronde lui sposa Iside che era la sorella Seth era fratello di Osiride e Nefti era anche la sorella non c'è cosa più bella che provasse la sorella Zocolandia si ripropone si ripropone perché continua questa storia ma ma che caos Seth Osiride si ubriacò e andò con la sorella tant'è che scoppiò la battaglia tra Seth e Osiride e Seth uccise Osiride dopodiché ne smembrò il corpo in tredici parti dodici le ricompose Iside con Falco con Horus il figlio alias Ananamin Sicilia c'è ancora il culto di Min se inventere Min Wikipedia vi dà la statua con un pallo così grosso il culto di Min da lì il termine Min eh sì perché Min Horus che cosa fece ma però scusami Alessandro dovevamo dirlo che era vietato ai minori di diciotto anni dovevamo dirlo beh è bella perché perché poi Horus con Iside e le suscitarono Osiride trovarono tre dodici dei tredici pezzi l'unico pezzo che non trovarono era il fallo di Osiride che se lo inghiottì lo sirinco un grosso pesce del Milo che adesso ritrovamo sulla testa dei papi o dei vescovi no la famosa Mitra è quel pesce quindi che inghiottì il fallo quel fallo che gli sta proprio in testa a questi che si sono in testa che sono dei testa di il proverbio però dice se la incontro per la via trombò anche la mizia perché Ananamin Ananamin Orus era anche il nipote di Nefti la moglie di Seth ok Seth e Osiride erano fratelli giusto seguimi Sì Seth sposa Nefti Osiride si ubriaca va con Nefti che era sempre sua sorella ma sorella anche di Seth e sposa di Seth compie la tutela e Seth uccide Osiride dopodiché il figlio di Osiride Orus che era il nipote di Nefti decise anche lui di trombarsi la zia e così scoppia pure la battaglia tra Seth o Cush ed Orus questa battaglia andava avanti parliamo di Plutarco per parecchio tempo dopodiché si riunì l'assemblea degli dèi e disse oh avete rotto i coglioni con sta guerra la regalità spetta ad Orus e Cush con la sua famiglia se ne va a fanculo da dove veniva a Babilonia ok e a Babilonia Cush ce lo ritroviamo come El Elion da El Ilu Allah il dio dell'Islam che mi dispiace per gli islamici ma è il dio più cornuto che esiste e sì perché la cara moglie Nefti a Babilonia diventerà Semiramide o Semiramis non si eliminò a mettergli le corn al marito così e poi con il nipote Orus ma si tromberà anche due figli e qui la rima ma la trovi tu perché io non lo so Eri perché figli di Cush o Sette uno era Avila che verrà deificato come Yahweh eccolo là e un altro era Nimrod colui che costruì la torre di Babele che verrà deificato come Bal beh Nimrod sposerà anche lui sua madre Nefti che prenderà il nome di Semiramis o Semiramide a Babilonia statua della libertà a questo punto Nimrod perché è così ben ben voluto dai massoni perché fu colui che costruì il primo impero a Davila vedete la Bibbia rimase un piccolo pezzettino insignificante di terra e quindi attaccò Nimrod che aveva costruito la torre di Babele ora dai nostri studi che cosa abbiamo visto che questi personaggi davano il loro nome alla terra che conquistavano tant'è che Misraim Misra vuol dire Egitto è la terra di Canaan da Canaan altro che era un figlio di Cam e la terra di Yahweh quale era? era la terra di Avila e Avila era uno dei figli di Cush Avila che cosa fece? attaccò Nimrod Yahweh attaccò Nimrod e gli distrusse la torre di Babele ok? Bab Ilu porta degli dei e quindi che cosa fece Semiramis Amide o Nefti a questo punto diceva ma visto mai che mio figlio Yahweh o Avila riesca ad avere la meglio in questa guerra decise di sposare anche suo figlio l'ultimo Avila o Yahweh a questo punto la storia è bella perché guarda che cosa succede quando Siride ebbe relazione con la moglie di Seth Nefti nascerà Anubi il dio della morte in Egitto ci siamo? Anche Anubi fu scacciato e tornò anche lui a Babilonia con la famiglia di Cusce e di Nefti alias Semiramide e lì diventerà Mot il dio della morte Anubi il dio della morte Mot il dio della morte scoppia la guerra tra Avila e Nimrod cioè Yahweh e Bal e Bal uccise Yahweh Yahweh e vi riporto nel libro qui trovate tutte le prove chissà forse la famiglia di Yahweh guardate un po' addirittura cugino di Yahweh ragazzi abbiamo ricostruito tutta la famiglia di Yahweh le genealogie le prove che vi portiamo sono infinite ma perché allora in alcune chiese è riportato quell'ideogramma che si rifà il nome di Yahweh i HVH c'è scritto su alcuni perché lui e non qualcun altro di tutti i sti dei arriviamo al dunque Bal diede una mazzata sul cranio a Yahweh c'è tutta la descrizione di come è uscita Yahweh e lo uccide a questo punto Moth che era nubi in Egitto uccise Bal ma intanto Semiramide la famosa Nefti che era stata con tutti e due i fratelli con nipote poi si è sposa tutti e due i figli era rimasta incinta ma da chi? da Yahweh da Yahweh dell'ultimo figlio Tammuz che non era figlio di Bal ma figlio di Yahweh Tammuz poi fu ucciso da un cinghiale vi riportiamo tutta la storia e lei per rimanere regina poi andò anche con generali che cosa disse? disse che Tammuz suo figlio era il dio sole Bal che era risorto questa sincretizzazione arriverà fino a Gesù che prenderà il ruolo di Tammuz che risorgerà nel padre Bal Nemrod e nel dio Bal il sole tant'è che il cristianesimo è una religione solare come il mitraismo come questi personaggi assumeranno perché tanti poi ritorniamo alle religioni pagane sono sempre gli stessi personaggi che cambieranno nome a secondo luogo Bal ok ma perché allora Crono Odino sono sempre gli stessi personaggi Tammuz Thor allora perché non c'è Bal ci hanno fatto addirittura i supereroi Elisa sì sì è vero è vero ma perché non c'è prescrizione è una cosa incredibile questi furbacchioni per fregare le persone no 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 ma grandiosa tutta la costruzione ma mi chiedo perché non si trova il nome di Bal all'interno delle chiese si trova quell'altro perché c'è IHVH e non Bal se il sole è Bal com'è che hanno girato la torta mi manca un pezzo perché dovete sapere ma questo però ci voleva arrivare quando andremo avanti ah ok vabbè adesso ci arriveremo lasciamo la curiosità e ti appunti però la domanda eccola qua sì ok perché siamo già quasi a un'ora e dieci quindi la prossima partiamo da qua perché bisogna che riprendiamo il filo del discorso dal dai dai riti e dalla oddio mi sfugge il termine dall'adorazione del sole l'adorazione del sole alle religioni qual era la domanda scusa che mi avevi detto perché IHVH sì vabbè diamo una risposta al volo va perché il re Giosia nel 629 avanti Cristo imporrà il monoteismo sul culto di 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 IHVH scusami ah ecco ma se voi leggete attentamente la Bibbia re Davide Saul Salomone erano dotatori di Bal e non di Yahweh e attenzione perché quel Bal ma ne parleremo nella prossima puntata ce lo ritroveremo in Egitto come l'Aton egizio quindi anche lì innumerevoli identità l'Aton era il dio sole ma perché questa sole luna perché Yahweh tornerà poi in Egitto come IAC luna beh sempre lì nei testi delle elementazioni ci viene detto che quando successe questo catacrisma con la caduta della cometa Barcre il sole era quasi era scomparso la sua luce brillava come quella di una stella sembrava piccola come quella di una stella la luna si oscurò pensate al mito del sole nero della luna nera tutti i retaggi ancestrali di eventi storici realmente accaduti a cui stiamo dando spiegazione dopo duemila anni non solo ma da lì arriveremo a spiegare anche l'agnosi e l'ognosticismo che lì e lì c'è tanta altra roba eh sì perché perché questi qui l'agnosi gli gnostici che cosa dicevano che non poteva essere Dio ad aver costruito questo mondo un mondo così orrendo cattivo dove con questa catastrofe ci furono la quasi estensione dell'umanità quindi quel Dio doveva essere un demiurgo che fece una creazione malvace il vero Dio doveva essere un Dio trascendente al rifiore di questo demiurgo lì fuori sì questa è l'agnosi e l'ognosticismo e tutte le religioni pre-cristiane erano gnostiche ma Gesù che cosa fece una resurrezione carnale che andava contro l'ognosticismo perché lui su di lui verrà sincretizzata la resurrezione di Tammuz nel padre Nimrod e nel Dio Bal Nimrod e Bal erano la stessa persona Bal è la teificazione di Nimrod ecco qua dovremmo rifare un riassunto quando ci riprendiamo quando riprenderemo la prossima puntata e adesso ci fermiamo qui esatto tanta carne al fuoco tanta veramente tanta però bisognava essere un po' così disruptive la prima puntata bisognava comunque mettere un po' di roba e accendere l'interesse a parte gli scherzi io non voglio portare la suscettibilità dei credenti e anzi io sono molto contento del fatto che loro credano allo Spirito Santo e che gridino alleluia quando le loro mogli gli dicono caro sono rimasto incinta ma come non abbiamo avuto rapporti sessuali sì ma è stato lo Spirito Santo e loro sono lì a festeggiare a dire alleluia alleluia di quello ne parliamo nella seconda o nella terza ne parliamo di quello no però giustamente per chiudere su questa cosa che stavi sottolineando tu hai parlato di un Dio trascendente cioè magari di una forza cosmica che sta al di sopra di tutta sta cricca di sta sopopera che è altro rispetto a quello che ci hanno raccontato a noi cioè la puntata finale la possiamo fare sulla fisica quantistica che abbiamo scritto libri articoli conferenze anche su questo che andiamo a svelare poi qualcos'altro per cercare di dare una spiegazione un po' più scientifica su chi siamo da dove veniamo cosa c'è dopo la morte su queste cose qui io ti ringrazio per questa opportunità spero che abbia perlomeno incuriosito i nostri lettori per chi vuole approfondire tutto quanto la tetralogia di Codex Iave trovate tutte le fonti con di tutti i racconti di sumeri accadici babilonesi le varie forme di scrittura sono libri di storia ragazzi però oggi studiare è fatica e quindi meglio mettere il cervello all'ammasso altrimenti questi qui la finiscono di governarci dopo cinquemila anni di dittatura io ti ringrazio per questa opportunità andremo avanti con le nostre scoperte storiche un salutone a te Elisa e a tutti i nostri ascoltatori grazie di averci seguiti vi aggiornerò sulle prossime puntate con Alessandro non scappare ci facciamo un salutone dietro le quinte mando la sigla finale e buonanotte a tutti grazie a tutti